Ciao ragazzi siamo gli State Gorilla, esperti del fitness, trasformiamo le persone con il corpo libero E oggi in diretta alla nostra palestra, come al solito andiamo ad allenare gli addominali, circuito molto molto figo oggi Come al solito ragazzi, smartphone di fianco a voi e cominciamo Allora, partiamo subito, circuito, allenamento di 30 secondi per esercizio che andremo a eseguire Primo esercizio, tocco alternato, quindi andiamo a toccare una punta e poi l'altra Israiamo a terra e si va 30 secondi di lavoro, 1, 2 e 3, let's go e partiamo Andiamo a toccare col braccio sinistro la punta destra e viceversa chiaramente Andiamo, andiamo, 20 secondi dai Primo esercizio questo, questo è solo per riscaldarsi Poi vedrete che qua funziona, è molto intenso, oggi andremo a riposare solo 30 secondi all'interno del workout Quindi su 8 minuti anche di più è tosto 3, 2, 1, ok Secondo esercizio di seguito, flutter kick Ci sdraiamo e andiamo a fare il nostro battito di gambe Praticamente, mi raccomando, lo ripetiamo come al solito Non rinarcate la schiena perché sennò poi ci scrivete Abbiamo mal di schiena, di qui, di lì Mi raccomando, non fatelo Cercate di tenere la schiena appoggiata al pavimento Nel frattempo siamo già 10 secondi Dai, 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 manteniamo Manteniamo Forza 5 secondi 3, 2, 1, ok cambio, reverse crunch Qua spingo Via, andiamo Alziamo le gambe e andiamo a portarle a noi Quindi praticamente un crunch inverso Lo dice proprio la stessa Andiamo, andiamo, 20 secondi Forza, forza 15, anzi no, 15 adesso Dai, dai, dai Andiamo, andiamo, andiamo 10 secondi Dai, raga Abbiamo quasi finito il primo blocco 4 secondi 3, 2, 1 Leg rises adesso Di seguito, senza riposarsi Via Andiamo Semplice esercizio per Andiamo ad alzare le gambe In questo modo Magari dopo lo facciamo vedere di lato Sì, sì Tutti gli esercizi Così li vedete Sia frontali Che laterali Dai, dai, dai Andiamo, andiamo, andiamo Forza 15 secondi E poi abbiamo Il plank Ragazzi dopo Quindi Pensate già Che dopo ci sarà il plank Di seguito Senza riposo questo 3 2 1 Ok Andiamo a fare 30 secondi Di plank Via E andiamo a tenere Qua ragazzi è tosto Se seguito Molto tosto Forse è uno dei più tosti Che abbiamo fatto Ma in poco tempo Il risultato Qui è Assicurato Raga Veramente Non scherziamo Ve lo consigliamo ogni volta Di fare questi workout Perché in poco tempo Cavolo Allenate veramente Il vostro fisico Il vostro corpo 5 secondi 3 2 1 Ok Adesso abbiamo Sit up Quindi parte alta Se vogliamo definire Via 30 secondi Di sit up Tocchiamo dietro E tocchiamo avanti Andiamo Andiamo 20 secondi ancora Forza Dai 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 Prossimo esercizio Abbiamo i crunch Ve lo dico già così Vi preparate già mentalmente I crunch Facile Che fisicamente ormai Siamo già messi mal Siamo già messi malissimo No no E abbiamo due giri qua 3 2 1 Ok Crunch Via Andiamo 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 Deve sapere ragazzi Che gli addominali Non servono solo Per fare i fighi In spiaggia Gli addominali Servono per Avere un core forte E il core forte Vuol dire Essere forti Nel corpo In sé Potete A fare Potete avere Un core forte Anche per altri sport In questo caso Domenico Seppiato una marea di pugni Sul core In questo periodo Se non avesse fatto Questi workout Da 8 minuti Non sentivo niente Vai Cambio esercizio Toe touch Ci siamo Oh Cazzo Sulle gambe E andiamo A toccare le punte Andiamo Andiamo Forza Andiamo 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 20 secondi E 15 Dai Dai Abbiamo così finito Raga Abbiamo finito Mancano due esercizi E poi ci sarà La pausa Dai 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 Cinque secondi 3 2 1 Ok Hell touch Tocco Alternato Così Andiamo a toccare Praticamente Le nostre caviglie I nostri talloni Cercando di mantenere Però la posizione Del crunch Praticamente Così andrà a lavorare Anche tutti gli obliqui È tosto È tosto Andiamo 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 Forza 7 secondi Dai Ci siamo 5 3 2 1 Russian twist E poi Ci riposiamo Ragazzi Ultimo Russian twist Stringiamo I denti Che abbiamo Finito Dai 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 Forza 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 10 secondi Dai Forza 5 3 2 1 E pausa Finalmente abbiamo Questa pausetta Ragazzi Tosto Circuito Tosto Lo sappiamo Però Se anche voi Volete ottenere I vostri risultati I vostri risultati Tanti sperati Quelli che volete Ottenere a tutti i costi Se Andate qua sotto Troverete il link In descrizione E noi Potremo aiutarvi In questo Adesso abbiamo 10 secondi E se riparte Raga Qui Non si scherza Ci siamo Dai Non si scherza Siamo Abbiamo fatto Fino adesso Abbiamo fatto Fino qua Andiamo Via Let's go Andiamo Tocco alternato 30 secondi Dai Dai Forza 15 secondi Dai Se siete già arrivati qua Comunque ragazzi Complimenti Perché questo E' tosto Non è facile Ripeto Uno dei peggiori Che abbiamo fatto 2 1 Cambio Frutter kick Di seguito Via Ogni volta E' sempre peggiore Ogni volta E' sempre E' questo e' peggiore E' sempre a salire Non possiamo fermarci Non è che possiamo dire Facciamo facile Facciamo facile E' un cavolo Anzi Cavoli vostri Che non ci avete seguito Fin dall'inizio Perché Se ci seguivate Dall'inizio Ci sono più facile Capito Invece adesso Dai Dai Forza 5 secondi Bravissimi 3 3 2 1 Pausa Ok Ok pausa Leggo Isis Inversi qua Reverse crunch Ok Via Andiamo Reverse crunch Ragazzi Dai 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 Forza Teniamo duro Teniamo duro Dai 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 Forza 10 secondi 5 3 2 1 Ultimo exercice Nel ultimo blocco Leggo Isis Vai Via Leggo Isis Andiamo Andiamo a tenere Con le gambe Ragazzi Su E giù Addome qua Ringrazierà Non adesso Chiaramente Adesso non vi sta ringraziando Adesso vi sta odiando Ma dopo ringrazierà Dai 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 Forza 10 secondi 5 Dai 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 Abbiamo finito Abbiamo finito Plank adesso eh 3 2 1 E via Ci giriamo E ci mettiamo In plank Via Let's go Plank Dai 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 Siamo alla fine ormai Siamo ragazzi Siamo alla fine Mancano solo 5 esercizi E abbiamo finito La parte peggiore è andata La parte peggiore è andata Il primo pezzo è il più difficile Dai 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 Forza 15 secondi eh Abbiamo già finito il plank Pensate un po' Mi siete neanche accorti E abbiamo già finito il plank Ci siamo Non molliamo adesso Dai 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 5 secondi 3 2 1 Ok Sit up ragazzi Sit up Con questo esercizio Mari rifiattiamo anche un po' Eh questo è toto Lo sento eh Lo senti perché Perché c'è l'addome pieno di sangue Pieno di sangue Quindi in realtà Non ci è fiata niente Però Era solo per illuderli Esatto Bisogna ingannare la mente Certe volte Dai dai forza 13 secondi Dai 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 10 Abbiamo già finito Anche il sit up ragazzi Sit up finito Adesso abbiamo I crunch Preparatevi Mentalmente 3 2 1 Ok Crunch 30 secondi Via Dai 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 Buttiamo fuori bene l'aria ragazzi Lo diciamo sempre Buttiamo fuori l'aria A ogni colpo È importantissimo Perché è importante respirare Quindi anche per questo Dai dai forza Siamo a quasi 10 10 adesso 5 secondi 3 2 1 Toy touch Il tocco Ragazzi Siamo della croce Si fa Tocco Tocco delle punte Ragazzi Oggi domenico Lo stiamo facendo Ucciso L'abbiamo ucciso Completamente Car miseria Mi preferivo Più posso fare un altro incontro Di pugilato Più posso fare questi addominali No dai manca poco Dai Dai forza Forza Passiamo 13 secondi Non molliamo Non molliamo Non molliamo Dai Teniamo duro 3 2 1 Ok Ultimo L touch E poi lascia un twist E abbiamo finito Dai 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 Manteniamo Ultimo minuto Di workout Ultimo minuto Ultimo minuto Non potete mollare Perché se molliate adesso Siete dei falliti E voi non lo siete Quindi Continuate Forza Dai 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 Andiamo 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 Ci siamo dai 10 secondi Ci siamo Tutti coloro che aprono i nostri video Non sono dei falliti Sono venuti su questa piattaforma Per essere dei vincenti E noi Vi faremo diventare dei vincenti Siamo così Ci siamo Lascia un twist Vai forza Let's go Ultimi 30 secondi E che vuoi che sarà Andiamo dai vai 20 secondi Vai fresco Ha fatto un cazzo Non l'ha fatto Hai visto Ha fatto tanto la finta Prima Sono stanco Per una finta Dai 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 Dov'è 10 secondi Andiamo Let's go Let's go 5 secondi 3 2 1 E Workout Finito Ragazzi Adesso Top Com'è questo workout È tosto Tosto Funziona Bello Adesso ovviamente Potete combinarlo Con gli altri workout Cosa importante Ragazzi Vi ricordiamo Se volete pagare Meno l'integrazione Codice Sconto Gorilla Sostituti My Protein Trovate Abbigliamento Integrazione Meno di così Iscrivetevi al canale Lasciate un like al video E noi ci vediamo In un prossimo Video Bella raga Io più più